Sono Alessandro Trabucco, Presidente di giuria del Primo Arte Laguna della sezione Fotografia. Ringrazio gli organizzatori di avermi coinvolto e di aver creduto nella mia esperienza e nelle mostre che ho curato finora. Il mio coinvolgimento nell'arte contemporanea risale da un po' di anni e in effetti la parte della fotografia è quella che ha maggiormente incentrato all'attenzione della mia ricerca. Ho curato diverse mostre di arte fotografica a Milano e in altri luoghi e soprattutto sono stato tra i curatori della mostra di varie edizioni, quattro edizioni a Como, della mostra Allarmi nella caserma di Como, appunto, dei Cristoforis. Quindi sono state quattro edizioni in quattro anni in cui ho potuto effettivamente ricercare e rendermi conto sulla situazione dell'arte giovane. Insieme ai miei due colleghi, Gorzanti e Biannese Viero, sono sicuro che faremo un ottimo lavoro, sperando di riuscire a avere delle opere che possano rappresentare effettivamente quello che è in questo momento la ricerca attuale. Oggi è il giorno dell'apertura della Biennale di Venezia, quindi penso che sia la situazione migliore per presentare questo concorso. È molto interessante questa atmosfera e vedremo un po' di lavorare insieme in maniera positiva.